Ci ha portato a presentare il nostro ultimo disco Reader of the Rooms Rapture Si chiude un cerchio, questa è l'ultima data in Italia Quindi grazie per essere qui e aver chiuso il cerchio assieme a noi Oltre ad essere una data speciale per questo motivo Questa è anche l'ultima volta che festeggeremo un anniversario Che per noi è importantissimo, ed è il decimo anniversario di The Pagan Manifesto Quindi suoneremo adesso qualche canzone per voi Ma la suoniamo da un po' quindi insomma portate pazienza Questa è Black Roses for the Waker Grazie a tutti 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 Grazie a tutti